Com'è che si chiamava la live? Cioè, com'è che si chiamava il gioco? Ah, very very cool. La password? Non mi ricordo qual era, però. Il muro è qua. La password era 123Q4. Ah, ok. Allora sarà sempre quella. Aspetta, ma quindi stream anche tu? Sì, sto streamando anch'io. Difatti tra poco verrò inondato di messaggi del tipo English please? Donald Duck mi scrive Ehi, yehi. Donald Duck. This is love. Oh, aio. Yolo. La mia chat è imbizzarrita adesso. Mi fai vedere il microonde? Ma il microonde è... È il computer, il microonde. Ah. Tutto sta pane? Server is up and ready, guys. Non, 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 non. Come si chiama il server? Very very cool. Ma davvero? Giuro. Vogliamo appena i due. Ah, vi ho attaccato al cazzo stasera, ragazzi. Molto papale, papale. Ah, qua c'è già un crop, a quanto pare. Eh, sì. Hello, Michael. Da dove vieni? Dal mondo. Più precisamente, Pinata Terra. Italian girl, huh? Mmm, I smell love. Hey, bro, I'm new on this channel. Welcome, Octavio. Hello, Michael. Sorry, guys. I will speak some Italian tonight. 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 Ah, ma sto già morendo. In a good time. Perché muori sempre? Tu non vuoi? Tu hai dei problemi con la vita. Io sono appena entrata. Cosa vuoi? Non leggo da sim. Hola. Va bene, che cazzo dobbiamo fare? Tra quattro giorni inverno. Nick, non ho una sorella. Mi dispiace. Allora, siamo a corto di... Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Siamo a corto di roba di ragni. Quindi bisogna andare a farmar ragni. Come ragni? I ragni sono qua vicino. Quindi easy peasy. Come si faceva? Ah, ok, così. Vabbè, iniziamo bene. Ma che gioco è? C'è scritto il titolo della live, minchia. Siete proprio dei disastri voi. Cazzo, neanche a leggere. Siete presi così male. Ok, guardate le mie di live, però. Minchia. Mario, andiamo. Andiamo a uscire le cose. Cos'era quello? Ok. Il tipo si dice? Non mi piace. Quale dei tre? No, dei tre. Dei tanti. Quale dei 25.000 titoli? Mi non devo piacere. Ovviamente chi non sa giocare, per favore, non combate i tiragni. Perché? Perché prendete le mine, prendete. Qualcuno si era già morto. No, no. Aia, aia. Ask her if I can do pizza o peperoni. Gary, puoi fare la peperoni o la pizza? Cosa? Sai fare peperoni o pizza? Uno dei due. Sai farli o no? Come, come, come dovrei farli o no? Sai fare qualcosa? No. Mi. No, ragazzi. Is she your girl, Lapid? No, she's not. Fortunately, she's not. Che cosa? She's kind of... She's kind of mad. In some way. It's not right. She's kind of crazy. Is she looking good? I don't know. There is a link in the description. Go and check her out. Ma come hai messo il link nel... Oh, oh. Va bene, va bene. Sì, va bene. Hai vero che ho perso la mia roba sponcata? Guardi come un plauto tu, non ho capito. Vabbè. Vai giù, dai. Mi sento di far giocarlo con quest'altro. Come si trova con ogni scheletto da terra? Con il martello. Non ho un martello, perfetto. Ma non trovo cibo. Eh, siamo un po' presi con la merda con tutto, perché ci siamo presi un po' tardi. Io pensavo di aver ripiantato dei busci di qualcosa, ma a quanto pare non l'ho fatto. Non mi sopravvive. Sì, opzione 1 sopravvive. Fino a prova contraria. A parte che c'è il frigo, il frigo c'è pieno di roba, quindi... Ma come c'è il frigo? Avevo fatto un frigo. Non c'è un cazzo nel frigo, però vabbè. Ma come non c'è... Eh, niente. Eh, io avevo un martello, ma a quanto pare è sparito. Bene. Ma, ma che figa... Ma è veramente un frigo. Ma è bellissimo. È il mio frigo from my casa forza. Ecco, ha portato qua gli... I culi la faccia. Eh, niente, dobbiamo raffarmare ancora ragni. Non mi piace sta Chad. Perfetto. Sei morta... They will stab you looking for another girl, but they're full of love. No, she's kinda crazy, that's it. No, there is no spaghetti tonight. Spaghetti? Ehi, non conosci solo tu gente pazza, eh? Oh, yeah, almost one. Come the K. Pizza, spaghetti. Monde! Oh, mio Dio. Piano! Oh, mio Dossi. Mi hanno fatto, mi sono fesa. Ma per che? Ma che si fai chanate. Foxy! Go rimanere. No, Fox! Ma per che? Cosa è ambigua che non posso leggere nella tua chat, nella tua live, scusa. Allora dicono don't touch my spaghetti. Ok. Ma che spaghetti alla carbonara? Ehm. Badass, I don't know. What? What? Ok, what? Allora, se io tocco questo... Sto morendo di fame, sono un genio. Eeeh, io devo fare cosa. Hai sentito. AraBBIATO. ArabBIATO. Italiana, sì Kate. Che fanno tutte le domande su di me, madonna! Ho sentito male! C'è perché sai come... non vedo una ragazza da chissà quanti milla anni, però. Non è solo lei è solo No No Chissà No 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 non farti domande lol ask her to touch my meatballs no come on guys be respectful or at least try your best oh quanti ne sono spawnati minchia troppi ora che ti puoi rimanere sulla tut stone si sulla no non mi toccare aia cosa sei tu ah tu son nightmare nel nel cosa? non sale no nel falò non vedo un cazzo non vedo ma va bene oh oh lei si cazzo 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 mi avete fatto andare troppo insano troppo velocemente maledetti ok sono rinata sono rinata eh che cazzo sono già responati le agni che palle sono i vostri eh si aspetta che mi state lontano grazie no non ci stiamo lontano mi state lontani ma noi ti vogliamo bene ma io non voglio bene a voi ma non è vero come ti andate via sparite puzzate non è vero non è vero non è vero non è vero mi sono lavata poco fa sei discagio allora buona ciao della scuola sì grazie la scuola mi sono lavata non è vero magari sono buona Cosa c'è? Cosa c'è? What? Hello there! Hey Rain! Come ti sta facendo? Stai ringrazio che non c'è il mio video C'è molto più divertente C'è molto più divertente Arrivano i lupi stasera mi sembra E' aggiricare dal suono Mi da errore provo a inviarti la richiesta Si perchè probabilmente sono pieno Kate c'è poco da fa C'è tante di quella gente che mi ve le richieste E che sarò pieno Facecam Non ho il plugin Facecam Sorry ragazzi Just jump on her Twitch Si è cute Eh falle mangiale Mio non sono Ciao Mario Ruvale Non è vero che non mi lavo mai madonna Ma io vi denuncio Mario Dimmi Mi piace il personaggio muscoloso Il problema è che il tuo personaggio muscoloso mangia un bordello Eh lo so ma la cosa bella è che se tu diventi più forte Si fai anche più danno Però io ho il personaggio che fa già all'80% più di danno Ma guarda il fisico Anche la testa ti si allarga Diventa gigantesca Ma come? Ora qua cadavri che non ci sono Minchia Ma come c'è un tumore Poi non so Ma come così muori e ruvo tutto Ma sei trozzissimo Mario No No Non c'era il proprio plan Mio mi chiede di giocare Ma non inizio con lei E se ho il server No 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 Mario Sai cosa vuol dire questo vero? Che moriremo ancora 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 Cercando di scappare e seminarli Ma non si seminano perché non sono Si No C'ho un tacchino Sarà un po' tardi Arrivano i lupi A parte che abbiamo anche i pig qua Calling Cercando Loure Dad Ma donna ma quando ti sono! Haha No carrello che ma le sei Non No Temp Pues Sinc Natural Ti ican L'Italia non ha spaventato le persone, ma più deliziosi. What? Madness, me l'ha scritto. No, aperta. Si, Madness. Mi mordi quanta gente c'hai dietro! Ma che cazzo li hai trovati, questa gente? Ma che adesso ho arrivato in America con un'orda dietro? Cazzo, vieni qua che te ne aggro alcuno. Ma ne abbiamo altri quattro! Io e Mario ne abbiamo altri quattro! Eh si, aromatura è tutto. E poi entri la roba che c'è nella cesta. Che cazzo metti a chi c'è Esther faccia di merda? Lasciami in pace a Esther. Si, hanno aggrato te, io posso andarmene felice. Lol. She's mentally ill. Si, she's mentally ill. Ma cosa? Ma non è vero! Facciamogli attaccare queste cose! Sono molto offesa. Eh? Si sento offeso. Chi si sento offeso? Io. Perché? Perché mi ha ammollato tutta la generale. Non è vero ne ho altri quattro io qua con Mario! Sembra una cosa classica? Fatti mangiare! Nooo! 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 Mario li hai fatti diventare bianchi! Sei stronzissimo! Nooo! Mario li hai fatti diventare bianchi! Sei stronzissimo! Aiuto! Nooo! 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 Ok, ok, ok! Nooo! Dio! Mangia! Nooo! Adesso che ci penso però, quante roba dobbiamo facciare? Eeeh! Appi! Hey! Appi! Abbiamo un problema! Uno? Vabbè finché uno è ancora gestibile! Eh! Anzi due perché sono due i lupi! Mario è morto! Ecco niente! Tre problemi perché io... No, no! Ok! Non muoio! No si muoio! Niente! Eeeh! Va beh! Va beh! Calma però vedi mappa! Aspetta, lascio prendere gli occhi ragazzi, perché posso vedere la piazza Questa è un po' di italiani La cosa bella di essere italiani è che possiamo vantarci per il vento aureo Per il vento aureo Che cazzo è il vento aureo? Concordo che noi veneti siamo fantastici Ma cioè tranquilli Siamo il meglio del meglio noi veneti Perchè 9 cazzo di Gears cosa me ne fate? Madonna quanta gente c'è Perchè li avete fatti anche diventare Di ghiaccio Non dovete huntarli i mostri perchè poi cambiano natura Dio santo se mi arrivava un fulminato mi ammazzava No c'è un pipistrello che attacca Chester Tu picchi il pipistrello Devo andare a riprendere la mia roba Ma perchè sei molto facile? Io vado a mangiare la pizza ciao, ciao Foxy, buona papà Voglio anch'io la pizza Foxy E' vero anch'io voglio la pizza Come ti permetti di mangiare la pizza di me? Noi italiani siamo la mozzarella della mozzarella Lo Dato che lui ha preso la pizza e non ci ha invitato Adesso farò io la mia pizza Con Blackjack e Squino di Ulso Ma mi hanno mai fatto Chester? Eh? Mi hanno mai fatto Chester? E' qua Chester Probabile Vieni qui Ah ok si è spostato Ha detto fuck this shit I'm out Allora dovete farvi Allora io non ho Fai potere riprendere la mia roba Io devo mettere la roba nel frigo Io ho finito da poco di mangiare salsiccia e stracchino Oh so good Eish Non so chi non lo salsiccio veri? Entrambe Allora Già ma io Ma io non ho Appian Powerful Ci che trovavi a robbiron Già Siete delle brutte persone Malpensanti Che non siete altri E' bello che noi non pensiamo punto Malpensanti veri Tutun csss Ma è mia roba No Il mio legno Allora siamo in così tanti che o ci muoviamo o in inverno sono tutti morti Perché al cibo ne abbiamo almeno 5 Mi attaccano i mostri 1.29 1.25 Tra poco è pronto il dry in rack Dovrebbe essere a posto Qualcuno però si è già fottuto la carne buona Va bene Sì la carne non dimostro Perché va essiccata Cura 20 HP E ti dà un sacco di roma Ciao Ricky A me servono i bufali Come cazzo erano i bufali? Sembra fossero qua giù No di nuovo i lupi Io me ne vado No 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 PRA� stayed C'è me Hai sicura che lei non è buona? Non vedi Sei buota? Non vedi Ok nonAS Se non una Non vedi Non quotes Non creda Non Promisedò È fin che Sì, ok? Facciamo questo! Cioè, tu vai avanti a cibo! Sì! Ti ho messo tanto dimagrire! Qui verrò 260 kg! Porca puttana! Perché è più pieno? Lug day 2, I'm surprised she didn't... In the chat yet... Yeah... No, don't worry, be happy! No, you cannot be me, so... Don't worry! Schifo! Schifo! Schifo al quadrato! Schifo XXL! Schifo XXL! Ma com'è povero Veri! Ma, Nick! Ma è scelta Shrack? Ah? Povero, sì! Veri, ti piacciono i film di Shrack? Sì! She said yes! Rainwolf! She seems... Five day... Sleep... Deprivated! Sembra che non dormi da cinque giorni! Dicono! Beh, più o meno! Dormo molto poco ultimamente! Oh, qua è morto qualcuno! Chissà chi! Chi è morto qui? Esamine Skeletron! Nuvoletta! I went to heaven! I went to heaven! I went to heaven! I went to heaven being hurt by starvation! Tutto bene, Ricky! Grazie! E tu? Tutto a posto? Kate, quello è un gattino che hai come immagine del canale... No way! Cosa ti lamenti? Questo qua è un maschio in realtà, non è una femmina! Ma sei sempre seguita la gente, Veri! Sì, Veri è molto attraente a quanto pare! Non ho capito! Non ho capito! Cosa? Sei molto attraente, attiri sempre mostri! Sì! Ah! I'll delete any message! Don't worry, Gab! Ti ringrazio! Sei molto gentile! Ma... Te app invece... Attiri... Automobili e cose? Essendo... A me la chat continua a dire che sono una donna, quindi... Ma come me li dai? Cioè... A te dicono che sei donna, a me dicono che sono uomo! Ma io non lo so! Ma cos'è sto mondo? Stai praticamente davvero annicchiata a piangere davanti alla clock box! LOL! Perché sta morendo di fame! Che domande! Sta chiedendo sfamatemi! Non sono capace! Non ti preoccupare, Ricky! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Eh... Meatball sono un pezzo di carne, qualsiasi cosa! Cioè... C'erano gli stacchetti! Un vegetale e due stacchetti anche! Appi! Ehi! Nick ha detto che ci dobbiamo fare due domande se a te danno della donna e a me dell'uomo! No! Noi non ci facciamo domande! Siete voi che trovate a farvi domande! Esatto! Perché minchia! Cioè! Oh! Tra uomo e donna ci sono un paio di differenze eh! Giusto un pochino! Ma già solo la voce comunque! Cavolo! La gente che entra nella mia live e mi dice ciao ma sei un maschio! E questo! Ascolta! E non lo senti con la voce da ragazza! Duuuude! I bet she probably... She barely know her! What? 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 No idea! What? 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 It's fire! Eeeerrrr! Avrei da ridire! Ah! La gente sta male! Si! Poi siamo noi che dobbiamo farci fare... Dobbiamo... Eh? Avete visto altri bufali in giro? Certo che siete voi che dovete farvi domande! Però c'è un fantasma! Di tenessa! Hai tirato su un fantasma da una tomba! No! Ah! Sei insano allora probabilmente! Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Mentre ascoltiamo voi che fate questi versi... In realtà siamo... Sì! Probabilmente... I barely know her! No worry! E l'ho ucciso! E l'ho? E l'ho? Aiutatemi! Aiutatemi! Aaaaaaah! Ma... Ma come è possibile? Disgraziate! Tutto in due! Ma io... Ma come... Ma come disgraziate! Ma Mario è un maschio! L'altro mi porta un auto! Ma come sta roba! Ma dove li trovate tutti questi lupi minchia? Non lo so! Io ero... Io ero andata in giro io! Io ero andata in giro! No, non sei girl! No, non sei girl! Sì! 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 Devi cucinare la prima! Guarda che non ho neanche i ceti! Quindi se tipo moriamo per il cibo... Perché moriremo per il cibo! Eh vabbè! Non rubarti la mia roba Mario! Madonna! Ti denuncio! Ecco! Ti sto bene! Hai visto Mario rubarmi la mia roba! E mi riprendo anche il piccolo! Ecco! Così impari! Mi servono dei fiori! No, no! Non raccogliere i fiori! Perché... Crea delle cose nuove! Mangiati dei... Vai a raccoglierti i cactus ad esempio! Io vado a prendere i funghi verdi! Io vado a caccia! E cactus apri la mappa e vedi! C'è tutto quanto la mappa è mezza fatta! Raccogli i cactus, li cucini e ti rinsanano! Perché le farfalle ti danno gli HP! Eh, bioma deserto! Beh, il cactus dove li vuoi trovare? Scusa! In acqua? In mare? Ci sta parlando le tracce! Eh, i cactus acquatici sono... Molto comuni! Beh, sono molto comuni! Ma dove cazzo ha dato finire questa caccia? In casca, datti! Ma che palle! Ma ancora sti cani di merda! Eh, vabbè, cani! Di merda! Io non ho parole! Non ho parole! Ci sono sempre... No, no, cazzo! Vaffanculo! Ho fatto la cagata! Sì! Sto dicendo che non ho parole! Bravo! Te ne vendo alcune se vuoi! Ok! Auto grillo! Auto grillo! Auto grillo! 37 euro, grazie! Ma quindi... Ma quindi te conosci le auto che sembrano grilli? Auto grillo! No? Questa era brutta, eh! Eh, ma... ma scusami, eh! No, di niente! No! Mancava un cuore a quella merda! Fiori! Carote! Lo so che faccio schifo, Nick, ma non so giocare! Che peggio di pampero, sì, lo so! Certo che lo ammetto! Cosa sono questi urli demoniaci? I miei soliti urli! Allora... Facciamoci il cappello per l'inverno! Per l'inverno! Mi sa che non dovrò farne un po' di più di uno! Ah, eh... Mario! Vieni qua dove sono io! Mi vedi in mappa! Vieni qua dove sono io! Che c'è tipo della frutta e... dei semini... e del legno! Qua! Che bello! I lioni! Vocali! Bom! Scappa 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 Mario! Scappa scappa! Scappa scappa! Ho due sassi! Sì! Corri scappa c'è il Nemesis scappa! Allora... Potresti fare un comando... Potresti fare un comando vocale più se urli? Sì volendo sì! Tu dali più forte! Potremmo giocare insieme! Sì! Il servo è... è... open! Password è 123 Tutto significa qualcosa in italiano? Non solo! Non solo uno, due, tre! Veris Art! Cosa vuol dire veris art in italiano? Niente! Veris Art! Oh! Cioè veri è il mio nome! E là c'eravamo arrivati! E Art! Perché è disegno! Quindi verità! Tutto qua! Cioè non c'è una... I don't like watching though! Perché c'è un ground qua? Ma siete... Madonna! Ma dove cazzo li trovate? Sì! Eravamo in giro! Io stavo cercando roba! Anzi ho finito la roba! Fantastico! Cioè non... Non so cosa dirti capito! Non è che li andiamo a cercare noi! Per me si li hanno a cercare! Ma stavamo cercando roba! Madonna! Basta ti denuncio! Che raro! Ti denuncio! Comando vocale con inferiore! Cioè c'è un campone invernale... Oh god! I spoke to you soon! I unlocked the most wanted badge on steam! Oh nice! Buono come un pollone! What? What? Allora... Uno di questi... Due twig! Grazie! Ma ci do un regalo magari stai! What? Ok! Cosa vuoi domani! Ho passato? No! Vieni prendi te stessa! Cos'è? Nightmare fuel! Sì! Mettiono la cassa! Mi dovrebbe fare anche altre casse Però io c'avevo un martello Qualcuno però deve averlo preso Perché un martello ce l'ho sempre Ma non ci sono Sapete che se essiccate la carne Vi dà più vita, vero? Non lo sapevo Grazie per avermelo detto Wait, in Italy Do you speak Italian or Spanish? Guess what We speak Italian Of course, of course Italian Also we speak Japanese Because we are kind of weird We are a bunch of weirdos Veronica Dezu Ok, basta Veronica Dezu Dezu Non lo so, Fili, che sono tonta Grazie Tutto buio Accendi la luce Ma scusa ma stai qua nel falò? C'è anche un orologio Ma ce l'avevo un martello L'ho fatto per il cazzo Vabbè Vi troppo un martello Aspetta Facciamo una merda Sì Facciamo un altro bucket Sì, ne ho trovati tre Che la cosa non va bene Io ho fatto un cappello Qualcuno se l'ha già preso Cosa che Nuvoletta non ti serve il cappello adesso Perché non fa ancora freddo Ti serve solo l'inverno A parte che l'inverno siete stecchiti più che altro Io cosa mi faccio Perché mi droppate roba random? Io droppo roba se tu che la raccogli Diverso No, no Cioè mi viene data roba Ma ti vogliono bene Cosa? Eh? Cosa? Chi? Grazie Ah! Camminare sulle manine Allora Cosa serve ancora? Ma non vuole essere disabile Cioè se lo chiede da solo Siamo altri bufali Io probabilmente Andrò a cercare altri bufali adesso Solo che sono lontani Uuuuuh Mi ha mandato il piccone Grazie per il piccone Grazie Mario Ho una immagine di me playing PD2 con Happy quando ero live Lop Veri Fa gli spaghetti Cosa? Excuse me? Veri What is my spaghetti? Oh i pinguini arriva No IDK Ok I I I just I didn't Cook them Si dopo domani in live Cosa dopo domani in live? Aspetta Non ho seguito il discorso Veri Fa gli spaghetti alle banane Cosa? Guarda che c'è A parte che non mi piacciono nemmeno le banane Però paura che mi sciotti Ma Ma Eh 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 Non mi ha detto niente io Luca Ah Luca A me non ti accende Il bastone C'è un trichetto Sì Mi ha droppato il bastone C'era un altro E' quella piccola Vieni qua e prenditi sta roba tu Che qua è morto un sacco di gente Ma chi è? Non so No Chi è qua con me Vieni qua e raccogliti tutto quanto Ma che è fordioso Ma che è Mario Intanto riesco di farmi fuori suo figlio Perché esistono? Bene Ho ucciso anche suo figlio Che cose esistono Ricky? Non so se ce ne sono altre però A veri piacciono le patate rosse Cosa? Non ammazzare altri mob adesso Non è utile Sono diventato francese Dimmi Mario Netto vuol dire No francese Netto Però niente cappello Uffa Ce n'è un altro Sì ce n'è un altro qua sotto Mario ma sei morto di nuovo? Cazzo non ho HP Mi presti il tuo elmo Tanto a te non serve adesso Ma sti pinguini sono cattivi Eh I pinguini fanno tanti carini e coccolosi Poi Poi ti rompono il culo Poi fanno parte dell'fp Ma tu vai vedere gli HP Bastardo Sto morendo io Eh ma io adesso Ammazzo anche lui E probabilmente Muglio male anch'io Mandoli, ginocchia Boh Forse Spaghetti e banane No non penso esistano Spero Come le hanno? Hanno le ginocchia? I pinguini? Dove le hanno le ginocchia? Aia Non cadere in acqua Non cadere in acqua Gli pinguini hanno le ginocchia nella palla Hai trovato un cappello? No Che sfiga Però c'è la blue jam La blue jam la voglio Altri cani C'è un altro Allora che ha spawnato qua in giro C'è un altro Ah merda Sto manendo di freddo No no Fermi tutti Ah cos'è Oddio Eh il tumore Era di freddo Perché ho niente da darti Non posso farmi Chiudo la torcia Mi scaldo? No Eh si è tornato in base voi Intanto cerco di farmi Un'altra volta C'è la terza volta Questo qua Eh io sto ancora tornando in base Oh mio dio 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 Dove è andato il cacciatore qua? Lo sarò andato a cacciare Eh si ma dove? A cacciare gli attori Ah pico Non c'è che parli Spagnolo e italiano Parli italiano Hai capito? Cosmino hablo espanol Non muori per la sanità Non mi ha ascoltato nessuno Ho fatto la best battuta ever E nessuno mi ha ascoltato Capita Il cacciatore dov'è? Sta cacciando gli attori Cacciatore no? Madonna Ah Mi viene a piangere E puoi ridare Indietro qui Tre secondi Di attenzione Che ti ho prestato Vabbè allora Campiamoci qua Così non mi scaldo Ehi Meme Meme? C'è un meme vivente? No E' uno che si chiama la mea Io sono un meme Un meme continuo Sono io Ci sono dei funghi verdi In un giro No Vero La tua ragazza può dire What? Ah va bene La tua ragazza può dire Buon What? Non è la mia ragazza She's not my girlfriend guys We're not even sure If it's a girl Yes Ma la tua richiesta Su steam La puoi mandare su steam Kate Così poi ti aggiungo E basta Spero di averla ammazzata Su l'elicottero Ci sono i fantasmi che mi perseguitano Ma non posso più romperla Questo panfire Che schifo Che schifo Kate se mi mandi la link Su steam No su steam Scusami su discord Che è in descrizione Meglio Ma non hai appena risponato Eh non ho un secondo account Se me la mandi su Su questo discord Qua C'è il link in descrizione Tu clicchi E me lo mandi Come messaggio privato Insomma Che cazzo posso bruciare io adesso Non è anche più log Merda Sono fottuto io Quello è l'ansia che mi corre dietro Perfetto Veri te lo merito Perfetto Veri mi regali la sub Mi saluti A parte che la sub Ce l'hai già Mi dici che sono un king Nonic Nonic non sei un king Anzi hai rosicato Per il mio pokemon Augurandogli la morte Perfetto Kate Ho ricevuto Posso essere una E-girl trap Infatti è morto Sì sì Nick Ma non ti preoccupare Non ti preoccupare Veramente Tranquillo Non sarà solo il mio a morire Quindi ce n'è Uno qui Uno qui E uno qui Fantastico Però nessun cappello Che palle Ma le ombre Delle mani Che arrivano da in terra Cosa fanno Rubano gli oggetti No rubano il fuoco Ah è vero È vero È vero Ok Come sei toxic Certo Bisogna vincere Povera Veri Già deve sopportare me Con i miei problemi Non ti preoccupare Tanto vengo sempre trollata Non è un problema Ma sinceramente Non È incredibile Devo alzare il volume a Veri Ce l'ho non da sento È strano Ecco Mi sto pentendo Anche la mia chat Tra poco devo andare a dormire Domani non ci sono Quindi mando lo più presto possibile Ah tranquillo Mario Quando mi ricordo te la mando Mario No retorno in base Adesso comunque potete minare il ghiaccio E usarlo come filler Per il cibo Quindi Un pezzo di carne Di mostro E tre ghiacci Fanno una meatball Oh my god Il counter degli iscritti È sbagliato No è youtube Che non Non si aggiorna Il counter è giusto Sei una mucca No non sono una mucca È un elefante No aspetta No aspetta Allora oggi ho fatto Oggi su Telegram ho fatto Un audio meraviglioso Che sembra proprio veramente Una mucca A un certo punto Ma ne hai più di cura Sì Ma dai Ma alla fine dell'audio Sì Alla fine dell'audio Sì Ma dove Che mucca Ma l'acerno Ma ma scusa No non è vero Ma scusami Le mucche fanno muo È una fa muo Perché avete distrutto Chi è che ha distrutto Il Si è un mostro Si è un mostro I fantasmi non possono Per le cose Dovete usare un martello Per romperlo Minchia Che dottore di palle Tieni il tuo elmo Se vuoi Non ho toccato nulla Sinceramente Vado un attimino Ad accendere il motorino Devi dare fastidio Cos'era Il motorino Che si accende Quanto paura Io adesso Sono terrorizzata Io ho paura Ma chi è sto animale Grazie Prego Mi serve un altro gold Ma quante persone Devo mutare In sto serfio Madonna Sono incredibili Bene Non abbiamo gold Fantastico Non posso parare un frigo Perfetto Vai così GG Well played Tocca andare a cercare Ah no Qualcuno c'aveva Tutto il gold Ok Mi sento male Che cazzo è il frigo Non mi ricordo mai Qua Allora Vi consiglio Ad andare a minare Il ghiaccio Perché se no Morirete di fame Tutti quanti L'unico L'unico problema È che io non ho proprio Rob Eh Morite sempre in giro Quindi basta che andate a cercare il vostro cadavere No 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 Non mi sento Non mi sento Non mi sento Non mi sento No thanks Russian girl Non ricordarmi che ho il debito in musica Devo pagare l'imu Io Sono preso peggiorità Non so dove si aspettino di trovare 1000 euro Per uno che non lavora Ma va bene Ciao pazzi Grazie per essere passato Ci vediamo alla prossima Ovvero domenica Ma io congelo Poi ho fuori Per me ho anche due asce Perchè ho due asce I like popcorn Me too Popcorn A questo punto vi conviene morire Così non perdete niente Cioè A parte la vostra roba All kind of popcorn Normal popcorn Basta che sono salti Salte Salte Qualcosa Il fuoco Il fuoco Il fuoco Se vi spostate Io anche do fuoco alla roba Anch'io faccio dare fuoco a tutto Magari evita Che è cazzo estero Perchè metti giù cose inutili Perchè Movoletta Perchè Ma a parte che poi si brucia sta roba no Ma ve la brucio io Perchè consumata il grass Che d'inverno non ricresce Me la de Ma Il cerevello Il cerevello Tanto vediamo che Larry sta morendo Di fame Oh Grazie per i 5 dollari Sei ancora mio amico Sei ancora un amico Con Mori Sì Sono ancora un amico Con Mori Mi hanno donato 5 dollari Ora ho più money Per spendere Nel fucking emu Che è la tax Alcun'altro sta morendo di fame Nuvoletta Nuvoletta Muori lontano dal fuoco Se no prende a fuoco la tua roba Sì Non così lontano Vabbè Non così lontano Attenti Attenti Non volete sapere rinascere Attenti Scappate Adesso vi tiro una mina Dal fulmine Rinasci però Mario Vieni Sì che ci abbassi La sanità mentale Per il cazzo A parte che ho messo La roba lì I parafulmini Comunque potete mangiarvi Cioè potete piantare La roba C'è trovate i semi Potete mettere la roba Non avevo mai visto L'anime Quella è un piccolo Ram Ram No Quella sono la Come si chiama La ragazza di No Game No Life Sei presente l'anime No Game No Life È la sorella più piccola Del protagonista Ti ho voluto a troppo basso Non ti sento Cosa? Una brodia su Youtube C'è il video Io sono Tizio e protagonista Io invece sono incesto Sì esatto L'A e l'incesto Esatto Perché mi date cose? Perché non volete mi da cose? Cosa mi ha dato un volete? Non lo so neanche Lasciatela per te Non darmi roba a caso Però porca puttana Mi sto liberando l'inventario E tu mi dai roba a caso Sai che ti odio? Se voglio il PVP Ti ti apro in due Ciao Ricky buonanotte Io mi libero l'inventario per terra E non volete raccogliere la roba E te la metti in mano Porca puttana Allora Sei un genio Almeno datemi le pietre Che ho droppato A me serve A me serve una thermal stone Quindi mi serve un 10 di rocce E non ho roccia Bene Dovevo andare a trovare Delle rocce Se io spacco le robe Spacco le tombe Dando roccia Se dopo tornassimo su card Non posso romperle Tristezza Intendo l'art della donazione Si ram e ram Scusami A pnb croft Ma non sono le cibi in realtà Sono ram e ram cibi Porca puttana Mi ha già riempito l'inventario Non volete Io ti odio Ho morto Veramente Entrambi Sia su twitch Che su youtube Io secondo me Hanno un pc Dell'800 C'è un servizio Si chiama restream E ti permette di streamare Su 5 o 6 piattaforme Tutte insieme Ah non lo sapevo Ah c'è un regalo Aspettate Figata Non lo sapevo In teoria youtube Non vuole che lo fai In realtà youtube Se non sai Solamente di youtube Puoi fare quello che vuoi Hai twitch Che non vuole se sei partner Se sei partner con twitch Non puoi streamare In altre piattaforme In contemporanea I got to see you guys Later In a happy stream See ya Evans Thank you for Joined by Have a good day I just said that overkill Might be going Bankrupt They are really Bankrupt Kinda I'm not sad Non è che non c'è altro Adesso non ho fatto un mio Lo devo portare io Qua Everything needs to end Sooner or later Guys Non ti voglio Mi paura Metti E mi dai il guano Porca No ma veramente Non vuole A cazzo Di esempio alimentare O a cazzo Di cane Sono un assassino Adesso ho Un vino E Sto fare via Andare un tanto Dei denti Aia Vaffanculo Nightmare di merda Cazzo Sto ammolendo anche di freddo Adesso Vaffanculo Ma in teoria Posso fare così Non penso funzioni Cazzo Ma quando il dipinto Nudo di bambi Cosa Hey bro Do you remember me? On crush date? Yeah I do Almost Yeah almost We are almost Almost there Che cazzo Che mi attacca ancora Che palle Seenight Mi è andata a cagare Quello attacchi dietro al muro Che cazzo Fili tu sei d'accordo Con queste cose Cosa ne pensi? Oh 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 No I oh un cardigan minchia due salami ho anche qua che palla attenti al fuoco però ragazzi dai eh indovina chi è nuvoletta assassino che cazzo è che così è tanto insano che porca puttana ho già ucciso 5 mostri nuvoletta hai rotto il cazzo dammi roba però adesso veramente ti torno subito aspettate io sto facendo le meatball se avete fame anche se ora mai niente qua nessuno tiene il fuoco eh io l'avevo acceso un po' prima ma stampatelo cioè fatevelo questa roba in poco tempo è pronta si nota che sono gay in che senso non dovresti essere una donna tu kate vai vai pure mario non mi preoccupare no per quello posso streamare su entrambe le piattaforme senza che mi rompano il cazzo perché anche da affiliato non ci può no non romperla non romper la macchina della scienza non è colpa mia stavo tenendo fermato il cazzo non è colpa mia il frigo è esploso da solo vero era lì che era lì che scattava il cazzo no ma non è colpa mia i frighi esplodono da solo quello che ho visto i frighi? io non l'ho toccato il frigo eh sì ho visto è esploso magicamente tu menti vedo il tuo mento stai mentendo con la menta al sapore di mentolo faccio un'altra testa perché sono pieno di cagate che ovviamente il nostro bellissimo nuvoletta ci ha prestato guarda sì a parte quella se voi ho fatto le meatball se volete ce ne ho fatte finora quattro un pezzo di meat e tre robbie fanno le meatball dimentica ciò che ho detto lol walking cane oh sì sei certo ho il walking cane the smarter go live only on twitch uh used to he used to play on on twitch but i guess he's working really really i mean a lot and now he's not really playing non ho dimenticato di questo piccolo dettaglio le meatball posso cibarmi? sì sì potete cibarvi basta che quando cibate vi ne fate un'altra riporterai pd2? sì un giorno lo riporterò ok vinto io però tipo domani dovrei fare un video su pd2 kate perché l'ho droppato io per terra perché avevo la cesta piena avevi dubbi su chi poteva droppare una roba così avanzata allora facciamo altre meatball non dobbiamo fare altre con rockpot però eh questo è un tre di pietra che non abbiamo immagino ma perché avete messo nella cesta i secchi di merda? lasciateli pure in giro e non volete e non volete li raccogli ovviamente no perché non volete deve scassare il cazzo la gente oh che bello posso fare un maiale no questo attaccalo i cazzi no vaffanculo non sai la lore non sai la lore guarda eccolo si trigger lei quando si arrabbia che mi dava problemi e ronteva un pezzo di tempio niente niente sì io sto facendo tutto e niente letteralmente non lo so è l'unica cosa che posso gravità e perché la crafti fuori fa freddo mettiamoci un cazzo non volete al vostro cappello dovete andare a spelacchiare i bufali se volete farvi un cappello sennò potete farvi una thermal stone eh ma no eh vi serve la roccia però per farvi la thermal stone no io lascio qua una thermal stone tanto starò in base un po' chi vuole andare a fare roba la fa scaldare poi va a prendersi la roba ok chi vuole andare a fare roccia marco in mappa non so da cazzo sia la roccia c'è un bioma di merda lì scappa un po' tu mi occupo io del nightmare stai vicino a glomar se no così ti riprendi un po' di sanità mentale stai vicino a sta pala di pelo quella che è qua se lì stai vicino dovrebbe salire la sanità mentale lasciate giù Chester non portatevano in giro a meno che non andate a fare robe strane basta darmi i secchi di cazzo è vicino a una specie di mosca gigante ti dà sanità mentale ai e niente un mostro ti ha attaccato il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco ok eh c'era la manina allora io però devo fare un altro recinto intorno a glomar perché se no mi muore perché lo attaccano sarai insano trigger hope ma quanti mostri perché tutti con me c'è l'altro proprio perché tu c'hai un maiale no i mostri perché è la sanità bassa no però c'hai un maiale allora io faccio la base attorno a glomar e niente ok vado a fare niente sono morto facciamo tivo sono andato vicino al fuoco sono morto comunque di freddo quanto è triste questa cosa fantastico allora allora li devono morire tutti praticamente è una situazione di una clip che cioè di una cosa che accade quando giocai a lol ero talmente sclerata ero talmente sclerata che tipo iniziai a dire ma che voglio morire tutti iniziai a dire cosa c'è ma va bene vi faccio domande no 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 infatti vai bene ok facciamo anche le porte cazzo ho troppa roba c'ho ah questa roba qua posso metterla si metterla nel frigo no non c'è la perché non mi fuso nel frigo ok ah quanto anni hai ho 25 anni Kate spoiler l'argomento del video di domani non so che cazzo fare mi inventerà qualcosa do a full pd2 with the stream when you get subs yeah can do a full stream tomorrow but I'm lazy happy wilderness 3 I will buy it mmm I'm from Poland and I'm very like your videos about pd2 thank you I forgot to blink I will always forget to blink don't worry you will make me dormire no di dormire io no ma dormire non è l'unità 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 insomma allora qualcuno ha preso la mia thermal stone siete andate a fare la roccia l'ho presa io sto andando in giro a prendere qualsiasi allora era meglio se ti fatti dare anche il capello a nuvoletta vai dentro la gabbia sì o comunque non scende perché è notte dio porco veramente costi secchi non volete rotto il cazzo eh scusa sono veneto mi è scappato non sai cosa sono i veneti allora no è che non c'è scusa antepeggiore no è solo veneto cioè non è una scusa è la dura realtà mi dispiace è una scusa antestupida non è una scusa essere veneti ma non è questo va bene va bene è una religione esatto film madonna mia è un modo di vivere io vi denuncio tirare giù santi come se non ci fossero domani è un modo di vivere io avevo una giamma rossa che fine ha fatto ah no ce l'ha venuta nell'inventario cos'è che non è nell'inventario non volete già sto per sapere allora ha messo a bel legno quindi dove la mia accetta ti urtano ti urtano la batterra allora spacca qualche legno albero fai delle ceste mi tirano le ceste poi se ti urtano la batterra non venire mai a casa mia è tutto per terra a casa mia non nasce è falle o chiedile sto molendo di fame apri il frigo ci sono le meatball e ti puoi mangiare le meatball sto morendo di morte go mangiare le polpette si che può mangiare le polpette e infatti ho detto go mangiare le polpette lo fiddo io dai sì glielo fico in bocca di cattiveria sono minorenne all i understand all i understood was meatball yeah i slapped the meatball into his mouth that sound really bad guys he's 16 guys call the fbi i force him to eat my meatballs FBI open up that sound real bad se li seguite finchè non de spawnano poi non tornano piu fire let's dance non ho le moto per danzare ah no ce la ho guardalo qua basta metti la roba nelle ceste a sto punto cioè dai cioè se faccio un sacco di ceste vediamo se metti la roba dentro i secchi di merda in tasca no i secchi di merda dovrebbero stare vicino alle farm ah sì mi sembra ancora del legno però voglio il face reveal adesso non ho la cam attaccata se vai negli altri live trovi la mia face cam la prima persona in modo corretto in italia no non è a serio non mi appara che fine ha fatto perché tutti dicono Christox sì è terribile da sentire ma perché chi ha il disabile che lo dice non smettino di mettermi secchi di merda in tasca no non ha instagram Kate che non ha instagram ma è bello che me ne ha crostato in altro e me l'ha messo in tasca ma che è questo no non lo dice ne erano ma perché no un paio non lo so ce ne sono 4 ora uno ce l'ho in tasca io mosca sì è il fiore lo prendi se vuoi spostarlo ma non vogliamo spostarlo comunque se vieni dentro il recinto prendi più roba cioè non so se da lì prendi sanità mentale e nuvoletta c'è aveva un capello l'ho buttato per terra prendi il capello la metti e te la do a sopra ma si un attimo voi dovevo scambiarlo se no vediamo se scoffa un'altra duststone se abbiamo un'altra pietra io non trovo questa roba non va qua il ghiaccio non va qua questa roba va dentro la mia lanterna va bene comincia anche alla gara ma è fantastico questo è un fuoco si è il giorno 30 ma poi tu di boss mi fate ricordare che devo andare a ammazzare un'altra volta il tipo vi lascio qua della roba se volete bruciarla too bad so sad ma tu hai vita la carne e allora mettila da essiccare però io non ho la mia mia pietra non è che ha fatto molta strada sì io non ho fatto niente cosa mi serve per fare la per come non ce l'ho non credo la pietra vabbè vado vado prendermi la roba che ce l'ho no non ti darò l'ascia quella è la mia ascia cosa devi fare in questo game devi sopravvivere ho scaricato l'ho di borderlands per per it è troppo bello non mi piace molto e conor shah io non giro con conor shah diciamo non giro insieme non giro insieme ma non mi piace molto vedo che cosa nooo hai detto chini nooo hai avuto questo round nooo nooo nono ha preso fuoco la mia roba Non credo che sono morta lì vicino, avevo farmato roba Un uccello! Ma sono giù! Dai! Eh, questo gioco è assicurato! Non ti preoccupare, grazie Gav! Ciao! Ciao! Mi sembra un nome azzeccato! Hai mai giocato? No! Meno male! Ah, non ti preoccupi! Buona mano! Ciao Ale! Monzande! Monzande! Minch il drop di veri ha fatto la stessa fine di dragotto E niente! Lasciate stare il mio dragotto! Ormai è morto! Nooo! Avete ammazzato cosa? Avete ammazzato Glomer? Sì? Non avete ammazzato Glomer, vero? Quello che da sanità mentale? No, io no! Ok! Dovrebbe... No, il dragotto ho sentito! No, il dragotto è... Ah! No! Non colosare! Dio madonna! E vabbè, dai! Uccidimi! Uccidimi! Grazie! Grazie! Sei contento? Ero appena morta! Ok! Ma ho scoperto il mio passaggio! Oh, non preoccupare Fatal! Hai perduto il tuo trucco per il nostro account di bank! Yikes! Non ho neanche più lascia, non ho più niente! Avevo il piccone e l'ascia, ora non ho più un cazzo! Io voglio morire! Ma cosa? Che pallo? Il mio cosa è... Affamato! Drogotto! Eh niente! Ma come drogotto? Dragotto! Lascia stare anche gommina, Nick! Madonna! Io... Se ti dovessi mai incontrare per strada, Nick, farei su una bruttina! Ti spacco! Sì sì! Avrebbe una bruttissima la fine! Spesso le gambe faccio ricette, dimmi nonna! Gamba salamoia! Gamba salamoia! I veri sono troppo veloci! Certo! Nei tuoi sogni! Nei tuoi sogni! Nei tuoi sogni! C'è Cryotic in live! Ponder! Sì! Tra quattro giorni morirete male! No! Arriva il Cyclops! Tra quattro giorni levatevi dallo spawn eh! Cioè levatevi dalla base! Nooo! Chi è che mi ha donato? Super chat! 5! Grazie mille! Thank you Fatal! I'm so unlucky that I didn't got the hat! Fuck! Ok! I'll drive me in Afghanistan. Maybe! La best opinion ha anche gli Vivei Homboph. con la maglietta un altro agosto? Yes, party! Eh, niente! Minchia, ma che sveglia il ca... Oh oh! Shit! Però non più di 5 euro. Eh, vabbè! No, mi occupa, no, sennò dopo non spendo. Sì, ma... Non mi interessa, niente ma. Eh, niente, allora... Niente ma. Allora niente. Resti senza. Oh, le magliette costano già di loro. Ma minchia. Ma va con l'escape room? Eh, va. Adesso io vado. Sono andato anche oggi a lavorare. Caldo pazzesco però. Spacco bottiglia e uccido famiglia. La magliette col segno dello stop sopra. E inizio a... E inizio a lanciarle alle vente. Tutti quanti dovranno... Chi è che è morto? Non vuole stare. Ah, io ho recuperato il mio piccone tra l'altro. Stai minacciando, aiuto. Ma arriva in casa e mi ascolterla. Minchia, ho anche finito la... Quante corde servivano? Due? Sì. Vado a farmare nemici da portare. Io sopravvivrò. Perché io ho il mio piccone. No, no, no. Ma non volete la patatina cinese? Eh? No, in chat hanno chiesto se non volete la patatina cinese. Mamma mia, ste mosche. Che cazzo butta per terra? Che palle. Non so che scuso, lo ero da prima però. No. Lascio per terra... I denti. Non ce l'hai fatto a far fare come mi c'era mortardo. Da. Ehi, blu. Non pogno! Non se lo puro! Non ti ragni! Non pioggidino! No, via! Non mi voglio! No, via! Via! Faura dei ragni! questa è la mia disperazione oh no, basta mancava la parte più bella però va bene tanto mi vuole fare il mio piccolo non mi salverà complimenti sta seguendo uno di quei dagni brutti ok, è andato via oh, io lascio già un po' di attrezzi se volete andare a fare cose non volete armato di ascia ma ditemi se vi serve roba posso darvi 11 di flint se volete diretevi un po' di roba non so se volete andare a fare cose si è già rotto grazie, grazie alla e come ti aspetti roba nuova? prendi la flint e roba fatene una che cazzo sta sta mano di... io ho sta zanzara mamma mia che tra poco la faccio esplodere con la pistola proprio prendo un bar e ti disparo ma perché fai amicizia con i... con i ragni? io non ho fatto amicizia con nessuno io vorrei tanto la kill count la vostra kill count perché io sarò morto una volta io ho al massimo 3 veri al massimo 60 non volete al massimo 144 mi sembra che non volete muoia tre volte al giorno una roba del genere no ma io stessa comunque lo dico cioè io non so giocare non vedo perché devo dire sì so giocare se poi non è vero allora abbiamo delle cos'è che mi serve? ho denti di robo ragno sì dovremmo aver tutto in teoria questo ce l'abbiamo no romperà ok no si è rompendo quattro va bene va bene scusami scusami chi è che ha i... i denti dei... dei lound? e ho anche i denti ho i denti mi servirà bravo lasciatene nella cesta roba che non vi serve tutti li trovi in tasca perché è... tu ti li trovi in tasca è diverso vedi che l'ho fatto io per la prima volta di suonare il flop in live quindi non diciamo i resi a quanto è il tuo cappello? anche suonarlo col naso a quanto è il tuo cappello? 44 no male ma non è vero cioè l'ho suonato io per primo il flop in live ho anche la clip basta andare a vedere non è che prima in che paese scusami? vabbè ma intendo c'è figli che dice che gli ho rubato l'idea no ma zitta cosa? oh ma zitta lo dici? sì è un cammello arrivo a piantare i ragni, pseudo vicino vedo problemi è un cammello? sì è un primo animale che gli è venuto in mente piru 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 ciao mario E' meglio sentire un cammello fare questo versione Happy, do you like Don't start together? Sì, do Siete deserto, fatti a Ciruo e ad un certo punto C'è il cavallo brutto molla Chi viene come a caccia? Eeeh, io no Io questi fantasmi, quindi non penso di venire Mario, diventa di nuovo umano, per favore E vai a caccia Come si prende tutta questa sanità mentale Sì, sì, è colpa di Mario Io già parto con meno 50 di sanità mentale, quindi ho già fatto give up Se lo sai, io ormai me ne sono già fatto una ragione Sì Ormai Ormai Che cazzo è andata sta traccia? Oh, c'è il Lootstash qua Oh, io non la trovo più Oh, io non la trovo più Ma non giocherà Minecraft So good Minecraft So good Minecraft Ah, fa qua Ehm A me non dispiace Guarda, non è stato di giocato Ehm 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 Lili a me Noi fanno per l'ho Non lo mangio Non mi sceradale Cosa fai mi sceradale? 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 Della trance in live Che il tipo diceva Ehm Il tuo ragazzo non dice niente A chi ti da del trance? Ehm Ed era proprio lui Era sempre lui? 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 Ti giuro Ti giuro A me in live è arrivato un tizio Che inizia a dire Ma se vuoi essere uno Streamer professionale Devi avere almeno 7 monitor Se no Non sai fare niente Ma non lo so Un critico Ma io ne ho due adesso Beh ma due Ehm Una cosa pausibile 7 E7 non so che cazzo ti serve Hai fame nuvoletta? E allora perchè sei vicino al frigo? La cosa mi spaventa Non vorrei che il Magicamente il frigo si autodistruggesse Accettami le richieste che devo andare a dormire Poi domani Aspetta allora Andiamo a rimuovere un po' di gente dal mio steam Ehm Invite Ho 140 125 richieste d'amicizia minchia No no Non mi regalare cesto Non voglio cesto Ehm Ignora Ignora Aiuto Vuoi darmi cesto Perchè mi è arrivata roba? Hai lo scelto di cesto Boh Ok In teoria puoi mandarmi la richiesta Adesso Infatti che potrei farlo anche io Sono pigro Ufff Cosa è? Mi è arrivato Cesto Veri veri è sparita Non torna più Perchè Ha preso l'autobus Per Per San Diego Comunque se avete roba da mettere nel cesto Le ceste si illuminano se c'è già quella roba dentro Si l'ho finito Non è bello Nei Non c'è Mi sono fatto Fai Mario Mario Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Qua Qua a me sembrava dire che la foca è dinabile ahahah perchè lo è oh ma allora non so non stavo se volevo introdurmi scusatemi nella frase ma vabbè non è vero chi è la foca monica monaca chi è la foca? ha detto che Pam fa schifo nessuno l'ha detto veri sei diventata un'ombra forse ciao ragazzotti sono in live su twitch col ventilatore qua e niente ah vero chat ci sente il ventilatore? il mio ventilatore io non sento niente vabbè a te no perchè ho il filtro per voi ma per la chat non lo so ah ok ho ancora testato un coltellino nuovo grazie comunque non l'ha detto nessun secondo che Fili fa schifo ah vabbè ah vabbè ah vabbè ok comunque se volete andare a fare della del ghiaccio non sarebbe una brutta idea serve adesso il ghiaccio serve sempre il ghiaccio perchè lo puoi usare come filler eh vabbè eh vabbè eh vabbè io andavo a fare dei ragni amiconi che mi sembra averli piantati no? no pavi di palle ora li ripianto qui quanto ne puoi prendere? che succede? che succede a giorni 30? spona il ciclope e sponerà vicino alla base quindi ci dobbiamo levare le palle perchè quando cammina spaca tutto ah ah e vorrei evitare che passasse sopra la base come se fosse un trattore ma direi però vi ho ragioni a parte che lo ammazzo io perchè oh io e Gino no 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 maledetti cavalli perchè mi hai dato una pala? ho fatto la sua plataforma eh niente e se non tutti questi cavalli mi hai dato da come aiuto cavalli... che? no sono i cavalli mi hai dato da come ah! il terror night il terror big stai vicino al fuoco? ammazzalo fagli una finta e poi attaccalo ok qui sono le legnezzi un po' eh niente infatti tu palle ok non vuole nella casa a me non dispiacerebbe ma sono via maia maia è molto gentile mai pagare un piccione Io non sono ciccione e pure nessuno ci deve sbattare se è bellissimo In realtà dentro tu sei ciccione e un vero non lo sai Ammettilo Probabile Però di fisico non lo so Sono advena e esplodo Perfetto C'è tanta pesca ma qui c'è lì La mia bilancia dice 50 kg Io non ho la bilancia Ma come non hai la bilancia? Eh non ce l'ho Perchè? Perchè non mi serve Se mi chiedono quanto pesi dico boh quello che vedi Poi che minchia è che ti chiede quanto pesi? Con che gente malata va in giro Già quando mi chiedono quando gli anni ho vado in crisi Mi tocca contare Che palle Ma dai Ma sono a casa Mario mi ruba la roba Mario mi ruba la roba Niente Niente Mario perchè mi rubi le cose Vai Perchè mi rubi le cose Mario stop rubarmi le cose Sì Ma quando avete preso il ghiaccio lo mettete dentro la Dentro qua il frigo Sì Allora prendo l'altro Perchè di quel Di quei cavalli dell'orrore Ho preso il nightmare fuel Se siamo pieni di nightmare fuel Potremmo fare spade a gogo Ne abbiamo un 31 Iberi non è ciccione Solo idiota e ignorante e stupide ciccione Ma di sicuro non è giusto Ha 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 Minchia questo è un bellissimo modo Per prendersi un ban Il mio figlio non è un comunista Può essere un bugiardo Un ciccione Un veone Un comunista Ma vi assicuro che non è una porn star Posso? Perchè non si ricorda di quella episodio No No Te lo dici insomma No Mi dispiace non ti conosciamo Puoi ripetermi come ti chiami? Meglio così Iapapapipistrello Ma le metto a essiccare Marionetta o marionetta? Non era marionetta o... Mario l'orbe esatto Perché non... Si lava A quanta ha il tuo cappellino? Il pulmine... Aia mi è arrivato un pulmine... Aia... Il pulmine in testa mi hai dato... Che d'ha fatto? Mi ha... Mi ha... Mi ha... Mi ha fulminato il crac... Aia... Mi ha fulminato il crac... Aia... 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 Anche la mia chat mi ha già abbandonati. E non c'è più nessuno in chat. Mostra 12 persone, ma non c'è nessuno. Ti ho fatto scappare tu. Era una cosa quasi prevista. E io che pensavo di essere simpatico. Sì, è che la tua simpatia tende molto sulla psicopatia, quindi... Perfetto. Quando si dice che sei simpatico è come un tombino. Un tombino. O un sasso. O come un'autopompa. Siamo già con il copyright con quella cosa. Comunque stasera o in giornata dovrebbe spawnare il Cizio. Come si chiama? Il Ciclope. Che ci aprirà come una cozza. Ah, grazie. Questo è ottimo. E non farlo spawnare vicino. Sentirete qua. Tum, tum, tum. Perché cammina molto pesante. E basta allontanarsi dallo spawn. Se sento un tomb... Gudaveria. Come se già non muoio abbastanza di mio. Legit proprio. Fate qualcosa di divertente. Ma, Nick, devi solo sopravvivere. Non c'è da qualcuno. Poggo a dire qualcosa di divertente. Ma no, è vero, non puoi... È vero, non puoi parlare. Non puoi parlare. È appio no. Perché? Perché così mi sono autodefinito. E ragazzo, girami dai il cappellino? Sei maledetto. Minchia, mi fanno malissimo. Aia! Corri, corri, scappa, c'è il Nemesis. No, come minchia ho fatto a spawnare fin qua? Però questo... Arrivano i lupi anche, scusate, in stasera. Chiedono... Chiedono in chat se ti fai le autopompe. Adesso ho un'autopompa per un motivo, no? Tutto un... Quanti sensi può avere sta frase, eh? Pensaci. Lol. Non è vero? Come, ma... Ma io non ho capito, ma io non ho capito. Come, ma io non ho capito. Ma no, non ho capito. Mi sento male. Lui, non ho puoi... Oddio Mario, scappiamo! Torniamo in base! Ma non è mica troppi l'opri qua Mi hanno fatto fuori 5 io Madonna ma ce ne sono troppi Oddio mio Non è niente E non dirlo a me che ho 40 HP Troppo sulle mine ho preso Eh si se avete un cane infuocato è stato lontano dalla base Vuol dire che qualche maledetto l'ha fatto spawnare infuocato Premi la mia roba Mario Può prendere Aspetta vado a rinascere C'è anche un altro foco qui Credo basta Vieni giù vieni giù Basta che ne sono rossi Non sei breve abbastanza Ma tanto non abbiamo noi l'aggro per ora Ahia si invece scattavo Ecco perché non volevo tornare in vita Guarda che roba Mamma mia Ma c'è stato abbastanza un tank Ma c'è stato abbastanza un tank C'erano morti tutti Si Si Deve essere popcorn S'hanno ammazzato anche la mosca No davvero Nooo Non c'era la gabbia chiusa L'hanno vinto Cazzo l'hanno uccisa Ma non c'è la gabbia Io ho messo la gabbia apposta Ed era chiusa E' aperta E' aperta E vabbè però dai ragazza Non hanno sfondato il muro Non hanno sfondato il muro Non possono romperlo E hanno sfondato qualcosa Ma qualcuno si è messo Il coso aperto No proprio sfondato qualcuno Il recinto Non possono sfondarlo Dobbiamo aspettare a respawnare Cioè dobbiamo aspettare che vadano via Prima di respawnare No non vanno via Sono una droga Sono contenta dai Sono contenta piacciono Vabbè avremo una farm infinita di ossa Cosa posso dire Beh la base Non c'è più Intanto la mia sanità mentale è fottuta Vi ringrazio Così oltre che Dobbiamo aspettare a rinascere Che vadano via Ma qua Sì che si vanno via Mario aspetta a rinascere Magari vanno via Ma picchiateli Fate atto di danno Ogni volta che li picchiate Eh ho capito Comunque hanno rotto loro la recinzione Ma un po' strano L'hanno rotta anche adesso Eh vabbè Sappiate che però Se voi adesso gli fate l'hound Cambiano Possono trasformarsi in quelli di fuoco Quelli di fuoco quando muoiono Bruciano le cose Vai sanità mentale a meno 50 Un rumore strano Hi Valtese How are you doing? Eh io direi Mettiamo via della roba Qua nelle ctes Sì ci sta Dio cos'è il suo rumore? Un rumore Vipi Eh ma vanno a morire E niente è arrivato il boss No via 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 Scappate 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 Cazzo Non ho neanche una torcia io però Eh vabbè morite Così non rompere le scatole Ovviamente spawnava Ovviamente spawnava da voi A parte che adesso ammazzerà lui i cani Quindi in linea di massima Eh niente E' due tipi di merda Vabbè ma adesso attacca No il gigante No è andato a fuoco tutto qua Perché? Perché avete fatto l'hound sui cani E i cani si sono trasformati in cani di fuoco Ma il gigante è diventato di ghiaccio? Il ghiaccio sì Il gigante fa freddo Se voi fate l'hound sui cani Si trasformano in cani di fuoco In cani normali O in cani di ghiaccio Per quello avete di non fare mai Lound sui mob Perché è estremamente controproduttivo Che bello ed è pure inverno Sì per voi è finita Io la esco ancora in vita Cazzo ma non c'è neanche più il firepittor Che ci vede Ora che guardo Vabbè tanto c'è un altro là più su Adesso andiamo No ma c'è c'è Indicamente dobbiamo C'è un altro che quando me Ah cazzarola Allora tu muori male Adesso e basta Ok Ok Lui deve andare a rispawnare Solo che se rispawniamola lontano No ma poi io non c'è Non c'è Perché non abbiamo la pietra termica Giustamente Quindi No semplicemente dobbiamo muoverci E fare un firepittorio Il prima possibile Oh ho vinto un regalo Il dubito è che riuscirà a scartarlo Aspettate ero da qualche parte E' qui E' qui E' un'altra fase distrutta Questa cosa abbiamo fatto Ma se c'è il ciclope Ciao ciclops Vieni con me Dai Nuovo passeggio Dai fammi un po' di legno per me Grazie Grazie Ho i Nightmare Però Che palle C'ho anche i Nightmare da sconfiggere Mi sa che muoio male io Ci sto provando Non me lo metti Lo metti qua Lo schifo di Nightmare Grazie Ciao 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 Eee Eh vabbè però, eh che cazzo. Eh io ho già tolto 1000 di vita. No, perché stanno... Ma Dio... Eh... Non lo so Non ho capito sta cosa stavolta Si è arrestato qualcuno? Si Eh allora il pulmine è stato Eh è andato a fuoco ora qualcosa Eh si Bella minchia Mi riprendono un attimo Le cose Stavo facendo le ceste per me Un po' di robetta no C'è andata a fuoco anche la cosa La piantaggione dell'erba Si beh immagino Io ho quasi sconfitto il ciclope Anche se però morirò di freddo nel mentre Quindi vado a farmi un fire pit al volo Ecco ho bisogno di scaldarmi Le chiappe Un po' di roba Ehm... Non posso farlo C'è... Auc... Ma no... No dai c'è anche il tree guardian ma per favore Combattetevi tra di voi dai Vadovi fuori i brutti maledetti Vadovi fuori i brutti maledetti Beh la quasi ammazzato eh No no sta giocando Sta giocando Sta giocando Ma cosa non gioca Cosa mamma Fai finta Mentre io sto ammazzando due boss Uno l'ho già ammazzato Aia Rip Hmm... Living log fino a domani Fantastico Sì Soveremo Bene io torno in quello che rimane della base Ah io sto provando a rifare delle chest Non è molto Ah vedo che non è rimasto niente Fantastico Già Ho rifatto E io sono insano come la fame Sto provando a rendermi utile Se riuscite a fare un fire pit easy peasy Ah vieni qua nightmare Ma che sfiga oh A parte ho carne fino a domani ma non abbiamo più niente Oioioi quasi perso Ok non posso più attaccarla Ok ho fatto un altro processo Ah il frigo perlomeno è salvo Però qualcuno si è già preso davanti alle Meatball Anche i denti di task sono a posto Vabbè dai not bad not bad Chi è che è ancora insano Cester è morto malissimo Ok Anche il nightmare fuel l'ha bruciato Sì Rip nightmare fuel Scartiamo il mio regalo Ok Ah qui ho la 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 come sta il tuo cappellino si ma quanto quanto dura ancora allora ti do il kit e usalo ricura il coso ma si fai adesso sopra il cappello allora ci servirà tanto gold il kit va bene c'è ancora un utilizzo qui si si l'ho visto l'ho visto allora servono delle pietre vabbè mi faccio un martello e faccio delle pietre io direi che non torno da nessuna parte stai morendo di freddo? c'ho dato la thermal stone quindi non dovresti più morire che palle? a me serve dell'albero teamstone ne ho sette e anche un po' di legnetti così magari cliccare qualcosa spettiamo libero io sto rompendo alberi tranquilla gli alberi ne ho quanti ne vuoi adesso perchè il ciclop è fatto da vasto ok ti do 11 legnetti 3 di flint e vabbè te l'ho dato un po' e quello che ho te l'ho dato il freddo mi sta danneggiando parecchio quindi torno a in base a io faccio un'altra thermal stone se volete sarebbe utile si come si fa la thermal stone? cosa stai morendo di? fame? stai lontano dal fuoco però perchè sennò ti si brucia il cappello non avevo visto che stavo continuando a morire eh vabbè prenderà poco uff beh io ho dato un'altra thermal stone a qualcuno è uscito fuori un ant eeeh a me l'hai data la thermal stone si vabbè io non ce l'ho più ma va bene ma non ce l'ho guarda Gino è un living log adesso vengo da ammazzarlo eeeh mi dai una thermal stone? si si se me la date vado a ammazzare il tipo ok grazie ce l'hai? si si dove hai il tipo? a parte che notte vieni a casa vai a casa vai a casa che notte ma mi tocca mettere giù ah c'è anche un nightmare fantastico ah c'è anche un nightmare fantastico ah c'è anche un nightmare fantastico che dolore ah c'è anche un nightmare che dolore ora c'è anche un nightmare non si ah ah la parola che dolore ma non c'è un mape spazio Prendi tu Andiamo a casa Alessi Quanto era? 70 Ne avevo una al centro e un'altra Allora sono entrambe tua Non ho sprecato l'oro Non ho spazio Non voleva inutile che mi dè roba Non ho spazio Io continuo a buttare roba per terra Ma non ho spazio Facciamo un po' di pulizia dei teschi qua Che mi sembra un pochino un cimitero Un po' di pulizia E' arrivato a me il fulmine Non ci credo Eh non c'è più la cosa antifulmina No si il fatto è che ero già distante In senso me ne stavo già andando Ci sarebbe molto palissimo Eh si ma tanto devo fare la crock pot prima E mi servirebbe 6 di carbone Ne ho 3 E posso andare a spaccare questi qua Se avessi una cazzo di ascia ma non ce l'ho Go spam di pamperdi Go 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 spammare il pamperdi Allora quando il vinter è finito Eh buona fortuna E' una buona idea Che cazzo non l'ho messo l'ascia Ah certo Ci stani ecco comunque Cioè sono sempre bene C'è il canale di pamperdi No semplicemente Le swamot sono più Non so Sono più particolari Comunque Un lupetto Non è tipo Un essere umano Allora aspetta I fumicili Dimmi tutto Cosa è il momento Ma cosa Un attimo Non giro i cosi di tasca Prendi l'oro Con le gambine Perché si è un po' bassa No ce l'avevamo già Ma in realtà Che stradonza Madonna Che padre mi manca la legna A raggio Ma sinceramente no Non voglio Non voglio Sì mi figli Sale le rampe Sì 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 è già finito Qualcuno è morto? Quals'è il password? Mi hai fatto arrivare il fulmine addosso 1,2,3,4 No aspetta! Adesso prende fuoco tutto quanto di nuovo Potete aspettare che faccio la cosa no? Non rinascere! Aspetti che faccio la cosa per il fulmine e poi rinascete Ma minchia finchè non metto la lighting rod Vai rinasci Cioè mi hai fatto dare fuoco la foresta? Quella che era qua sotto perché mi è arrivato il fulmine a me 1,2,3,4 Giova No Gabo Si che non mi serve mi serviva legna ma va bene Sìidero preoccupare sì ti rigorego molto i bambini quando ti potevano lavarsi i denti che non arrivano al lavandino, ecco quelli, devo usare quelli dimmi cili no, niente, mi stanno provando a triggerar in città continuando a dirmi che sono bassa ma lo so benissimo e quindi yeah, you can start learning some italian here chi è che vuoi imparare l'italiano? la mia chat mi marti, quante roba è andata a fuoco, fioì niente, qualcuno ha raccolto la roba che mi serviva che roba? ehi, come cazzo si chiamano? electrical dodo, perfetto, me ne hanno ridato no, no, ok, non li ho presi io e nella cesta non ci sono? perché li avevo visti fino no, no, ma c'è lì adesso me li hanno ridati ok vediamo se abbiamo della pietra anche no ma quando devi prendere qualcosa al supermercato usi gli spaghetti come scala? ma quando ti hanno fatto la cosa per la carta di dentiata hanno messo in piedi su un panchetto no, no, no ma che bimaroni, questi tiragni di merda abbiamo 65 di ascia secondo me sono andate fuoco un sacco di robetti di stick non mi giri tranquilli, è tutto nella norma no, fili, madonna avevo una bella base base, base ma poi qualcuno ha fatto una cagata e ora non ce l'ho più ma auguri di cosa? grazie, comunque Mario è un po' di... non ci sono amici allora vieni da che va ma sono stanca un po' di più è mezzanotte, cazzo a mezzogiorno a mezzogiorno eh, sì Mario sì, ha fatto la mia base ma sta biggiando qualcuno è uscito auguri cosa? ma non è il mio caglio non puoi unire puoi unire, la sala è chiamata molto molto bella il password è 123 ma se puoi unire in winter io non voglio che la gente entri che mi muore male perché è inverno già la ce l'ha fatta in tempo wow gg non so come sei se sei freddo ma no, vai lol vado che al contrario di voi lui sa sopravvivere io lo abbiamo fatto fino al giorno 40 ciao ciao grazie per aver giocato grazie per gli incendi spontanei ragazzi appunto come grazie per le combustione spontaneo detto ciao 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 buonanotte buon fagiolo buon fagiolo scrivimi su telegram no mario ahhh terror di merda ad ogni modo io direi che per stasera posso anche staccare ok niente a breve lascerò il mondo ad ogni modo voi due vi saluto qua va bene easy e niente grazie mille ancora per aver giocato ragazzotti sono matcha pre shield e niente ci vediamo facciamo così facciamo squat tutti quanti fate slash fate così no non posso scriverlo fate slash carol ok e guardate verso basso però a me se avesse l'abbiato oppure fate slash dance non posso scrivere and now we are going to close now and we are going to play some pedi guys just one or two things don't worry spike we are going to play baby tomorrow I don't know we are going to play something now barry has to go and good night to everyone bye man down man down has someone clipped me going and killing every single boss basically do you have teamfighters 2? I do a play but I don't have it installed probably let me check oh it's my cola here never mind cola down yeah it was fine you made a good run though uh nope I don't have it installed what we can play change the title to pedi2 I don't know what we are going to do hmm pey date now No Yes, if you play That's sad Pid H22 Problem is that you cannot change it on on this one Which sucks So I have to do it manually here Boom Nope didn't change So we can actually do something interesting Because we can try to make a new skin Maybe for Rust Because Rust is kind of bitchy I don't like his skin Let the sub roll in Playpad A5 We can change the title screen to crash day 2 Awesome Or I can actually fix my game So it doesn't crash anymore But Whatever What is Rust Such a bad skin he does Such a bad skin he does Look at this Come on She is so old I like the jacket though But I don't like the chain I like the bullet knuckles He has no booty I'm meek I don't know why but Hila looks even worse He needs to eat a little bit more I like the tie I like the jacket Should probably make the tie Should probably make the jacket like the tie I live up to when you did What? I live up to when you did PD2 video I cannot follow Sorry What are you saying? What are you saying? ok chat what do you want to see one more need to be updated bookmark office ok no I was trying to hit properties now uninstall golden green casino I hate you so much because it's so boring doing golden green casino it's one of my worst maps so let me get rid of the stats since I know that it's not gonna overcook my PC what do I need to go to the golden green casino I don't remember if I ever do golden green casino just to get carry based yeah carry stalker is a must it's so fucking boring luck is a matter of preparation meeting opportunity don't crack please this one no 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 planning is one thing execution is another time fuck it good work hey Alex make my cat dance huh we went up 2 subs lol that cat yeah it's cute hey hey benno well you utu what's up man all the people who want pd2 haha yeah now they're just gonna spawn in Bane Shut the fuck up where is newt control voice I don't like you Shut the fuck up Don't What Good boy Really Oh, I forgot the door I forgot to shut those alarms, I guess Well, we'll see Siedlonghead, oh, you can be so good at stealth It's just practice Once you play this game for a lot of time You kind of remember how to play Or how to do the play Double jump Oh, I guess it's so high No, I don't like this cola bottle here, though Why you cannot be inside there That sucks Wow Where your hand went Behind the secret of your BES Just play the fucking lot That will do Oh, car shop was fun Oh, first time And you just did everything for me LEL 6 Blue LEL LEL Is there Oh, you don't need to remember Because Bane is going to tell you after Oh, yeah, I do need the voice Otherwise, I don't know the room Now that I think about it Oh, guys, sorry I forgot I have infinite equipment Basically, I have infinite body bags And cable ties Because I was testing a map And I need those to be like Debug features So just remember me that I have one more body bags And that's it To make it fair Room what, guys? Room what? I need a guest list Find out who's in that room We'll need their key Reception should have a terminal I took the USB too fast Now I don't know the room Nice Ah, it's whatever It's gonna be always in the room Ugliest spawn ever Right? It's green Second digit for the vault Just the last to find Reception one on the guest list, guys Just head there Download it 3 red Doesn't show you where the room Just try all the doors Yeah, basically I'm bored as fuck Don't worry, man The reception area come on man really oh i also need to find the bottles oh fuck this is so boring oh nice lucky this guy can be kind of a pain in the ass happy for now it's 19 a lot why was he play on nights i mean this map is always on nights oh you mean by the time it's the only time that i have free how many body bags i have two yeah that's that's right so i did kill three people i have two on me and three in the bag oh i need to scratch my back yeah i do work i'm from italy why did you remove the blue gloves because i like white more can we play together oh i don't like the idea because i'm from italy and you're probably not even close to italy so the ping will be really really bad is that you no it's not you so it's on the other side fuck yeah yeah fuck off bane yeah he's there which color you have red is getting low let's serve him another with a little something added oh nice hey 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 don't look at me nope red and blue oh green and blue oh the other one is there can i go this way no oh nice he's gonna go in this bathroom right yeah about outside i don't know where he went oh shit oh yeah yeah it's called he always come here he's not even looking at me oh fuck off bane i was about to run into that door well it's uh i don't know how to spell it not even sure it's a word find a vent and start pumping the gas i forgot the gas fuck me i forgot the fucking gas i'm so bad god damn it i'm not sub to you oh that hurt can you show me the knife you have and now you get it it's from kanto i don't know how to get it i don't remember it's this i don't know the thing that you suicide with no i fucked up the jump hey 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 come on really oh fuck off she's gonna see me weep like i was worried about cameras in the first place i hear people out down me fuck it no no there's the camera there i guess the camera is blind oh no the camera are offline now yeah because i put them asleep that was a waste of acm whatever i forgot about that yeah i forgot about the camera hey you made me buy pedi2 for a few months ago i'm sorry smurf i'm sorry don't play cooking simulator you should try it's a very epic game yeah i kinda look into it but i'm way better than cooking in real life than in a simulator you scared the shit out of me guys because i forgot about the cameras shit this camera pisses me off so bad so i have no more scm and i have only one body bags left so i guess i can use it i always forget what what button you have to press i'm only gonna bring one bag because i'm lazy oh here's the last guy now okay i don't know alex i'll play this basket sensor please look on my last comment ah don't worry let it free more laser defenses don't get disabling them just watch the pattern and be ready to run through that's it whatever it is all right the drop off is the storage room take that there as to it ok we are done guys don't give up otherwise be fine thank you swag i was laughing at that most chance come on you stupid fat fuck the loot i don't need money i don't need money in real life not in the game thank you alec one more no even sub can you play another game i cheat really if you ask so what game i should play what you want to see next guys can you do a lasso a lasso it's a long one and i don't know if i have the mod to mute the audio yeah i do which is always nice let's try a lasso i actually don't remember to play a lasso i play only once i played a few times actually five times it's so bullshit this mission though play yakt i'm gonna try one time alasso and if i don't make it i'm gonna do yakt because i actually don't remember to do this oh i don't remember that i have only four look at my level there it's 19 i was so young happy 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 that was shima that did this wanna buy one of my merch guys you want to see my show or do i buy tickets there is one that is basically a gif the fuck is that it's so cute oh he's here this one is a gif so it changes can show not show more than that though oh well my original logo my original logo okay let's try oh yeah i do remember that i have to kill a many many civilians oh man sounds like a hell of a gig in there oh man sounds like a lot of a gig in there oh man sounds like a lot of a gig in there oh well let's try again oh i also forgot to remove the music shit yeah that's a mod that tashima gtr picked for me i mean his body what's up youtube doesn't strike live for the music i really hope so yeah there's one there's a marked closet get working on the lock don't oh come on you don't see in anything bullshit i'm not abandoned from twitch abandoned from youtube basically demonetization if i don't make any money this month i'm kind of fucked because from some reason my my guys build just went through the roof basically they asked me like 400 bucks for my for this month instead of the 120 like 400 bucks is fucking a lot okay let's do yacht fuck this one but i want to see you do it i did a video i have a video doing it just one though it's so bullshit even yacht is bullshit because they spot me from miles but it's less bullshit let's see if i can do a speedrun happy how is that high i have no idea they changed my i don't know probably they changed something i just switched a contract now because 400 bucks is it's too much i didn't even open a restaurant on right on my house because what the fuck is there's are you okay i want to shoot people in the water like really bad i heard it's some irish guy is it is it irish i don't have to remind you every hostage is an asset have you a chef i'm not happy this map is a fan made no it's not it's yacht case this one come on float what is up here oh it's up there bullshit spawn i hate this spawn so bad green fridge lifeboat 104 bookshelf 104 is at which level of the lifeboat yeah so it's down there i love this bow it's so cool stop it don't kill civilians they're gonna bring in the big guns if you kill civilians frontier tas derecho cagard cagg dr ne car chichi what i've been watching you morty for cause of you wo nonsense don and i do the chef c'è il livebot e il livebot? food cart? non c'è il livebot non c'è il livebot non c'è il livebot oh il livebot oh il fridge i hate myself when i don't remember shit oh i also forgot that i have this i don't know i cannot see chance or message what happy means nothing i was trying to say happy but happy was already taken so i have to stick with that uh one of four right guys probably to go one of four i have to go downstairs oi what are you doing there? where you went? what? what perk are you used to on speedrun? i use uh kudza because it's the fastest when you're lowing on hp one of four one of two one of three oh three oh those mosquitos fuck them why they cannot burn fucking help please fuck you real name? leonardo what up me means nothing i was trying to spell happy but the name was already taken guys so i have to come up with an idea huh that was close no fuck you open it hi listen what's with this don't move the furniture under any circumstances i suggested we need it to be flexible hey i bet he was in there happy baka yeah basically great that's the last of them ok that's great now for that server if you get back to that laptop and hook me up i should be able to open the room where the server is hmm i was thinking about you i was like where is the guard that always fuck me hey 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 stop looking at me bruh hello weep weep but baka means idiot baka means idiot guys the secondary server should overheat you turn off the flow of coolant that should do it they'll overheat now and cause that reboot nope okay now for overriding the main i can kill them both but whatever come on this one please i hate you bye guys bye guys potrei fare Firestarter Day 1 in Stealth ero spiegato molto di Dirty Bomb ho un video che posso fare Dirty Bomb è divertente mi fa molto, ma è divertente l'ho fatto l'ho fatto un po' l'ho fatto è un po' quello che è l'ho fatto è un po' 3414 this one no maybe this one no i cannot play firestarter no way no i just give up on this one probably i don't know if it was this one or what yeah 27.5 it was this one that i even had the no i didn't have the thing nice so whoop load this well guys i have to go eat too because it's late i want to go some get some sleep i have a new comment from who from kate lol like nice she owns a bomb of things shit shit yeah it's midnight well guys thank you for joining by and thank you for all the donation and everything i really appreciate it thank you alex for the sub and tomorrow at probably 6 p.m something around there you can see the new videos of pd2 no spoiler alert good night guys yeah i'm ending bye bye bye